ah ok, si hanno la stessa età? si ecco un kit medico posizione presa e sotto controllo anche che c'è RPG si sono sul balcone a finita ragazzi sul carro è sceso destra bravi, peccato si tieni, medicine eliminato un cecchino ci spara al riparo guarda quella di Charlie abbiamo ripreso un avamposto bisogna correre aggredita quella posizione granata arrivano di merda ricarico comune luco 2 abbiamo aperto la base si qua è uno è uno e un rischio ho perso la base colpite quella posizione avamposto nemico preso sparate dietosso lupo 2 la base è persa ripeto la base è persa sensore cinetico lanciato mica non li vedo sono in santo i nemici abbiamo ripreso un avamposto ah bella mezza gli occhi si no no sto correndo ok si 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 sto andando sto andando è morto adesso hanno ammazzato ecco un big medico no 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 qualcuno ne ha ammazzato un razzo io gli stavo dietro non volevo costellare cazzo faccio un kit se vuoi guarda amico cazzo soldati ostili si non ci vedete gli occupati consigliamoli devo ricaricare l'obiettivo è stato preso granata c'abbiamo tutti bravo bravo ha preso la base merda granata preso posizione presa un'ora dentro la casella si soldati ostili più cialdi ossia il taccone alla casa rossa quello in alto un'ora dentro la casa uno è entrato in casa preso sopra bravo sono andato in alto ragazzi io sono qua da per sopra la casa di bravo sto andando solidiamo la posizione casa libera sono in Charlie c'è la GIF il quadro che viene da te ripreso andiamo in compagnia mi ha ammazzato un cecchino sta arrivando mi ha appena ammazzato l'ho ferito ci ha coltellato forse io mi ha appena ammazzato 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 si occorre vai 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 vado in base vado in base l'ora non serve sono bloccato qui dove sono? vado in base l'ora io sono in base l'ora mi haces casi vado in base l'ora grazie ho vado in base l'ora tutte e due vettaglio a stella scopritevi Vieni via! Vieni via! È il medico! Ogni con il medico! C'è il medico! Riperto! Stando a terra! Sparano addosso! Ben testa! Capito com'è! Eh! Non sentite per i video in un'escalante! Sì! E' una roba da giovane! Lascemi stare Luigi! Occhio che qua scende uno! C'è ancora uno, c'è ancora uno! Sono in alto a sinistra adesso! I nemici! Sì! 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 Granata! Vieni! Sono stati ostili! Sono presto! Ok! Dove sta ragazzi! Dalle montagne di Charlie! C'è pure un quad! Sì! Scusami dall'acqua voglio dire! Sono passati sotto col quad! Stavano andando giù ragazzi! Lasci! Lasci! Lupo 2! Il delico ha preso la base! Comunizioni! Attenzione! Sembra di aver avistato un cecchino nemico! L'uomo è a terra! Sono stati ostili! Occhio! 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 Abbiamo perso il controllo della base! La posizione è compromessa! UAV ragazzi! UAV! UAV! Accoltellatelo! Mi sta sparando! Bello! L'ho visto qua! La strada! È un cecchino! Lupo 2! La base è perduta! Occhio! Cacchino! Cosa? Ecco un kit medico! Abbiamo compagnia! Questo... Bravo sto facendo! Posizione presa! Aspetto controllo! Staccate la posizione! Charlie anche ragazzi! Alta e testa! Conformato! Pronti a far fuoco! I nemici! E' stato in asco! E' stato in asco! E' bravo! E' arrivato il cecchino! Ah no! La base è perduta! Tieni! Medicine! Guarda! Impedico qui! Sì! 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 Perfetto! È preso! Posizione presa e sotto controllo! Libero adesso! Rincarico! Copritemi! Guarda! Ah! È stato eliminato il secondo me! Rincarico! Copritemi! Sì! Ilettore cinetico è lanciato! Prendi! Prendi! Granata mia! Non puoi mettere il salto! Oh! Mentre... Prendi! Mi sa che l'ho preso! Che? Soldati ostivi! Sono munizioni! Prendi! Damata la dica! Ecco il medico! Ricarico copritemi, l'uovo a terra, la nostra base è stata presa, abbiamo ripreso un avampotto Bravo sono in bravo ragazzi, vado sopra io, mi stanno sparando quindi sono sotto Nella casa di fianco Abbiamo perso la base Abbiamo perso la base Bravo bravo Sono ancora qua Abbiamo compagnia, lascerà un bel segno Sono in bravo, ah l'ho amassato l'ho amassato Va beh tipo No Abbiamo ripreso un avampotto Grazie Abbiamo ripreso un avampotto Abbiamo ripreso un avampotto Abbassate il bersaglio Abbassate il bersaglio Non la fa, non la fa qui Prova sul testo, sul testo, attenzione È stato in giro È stato da spesso Bastardo Copritemi Sto ricaricardo Placcio il sensore cinesico Uccisione confermata Ok Sì, bravo Luigi Granata via Sì, facciamo il funerale Sto scendendo anch'io Stiamo a ricaricare Merda Abbiamo per il tonno E' sulla casa L'obiettivo è stato preso Tieni, sono munizioni Tieni, medicine Attenzione alla mira Ricarico, copritemi Sì, ho visto Soltati ostili Sì, si è lanciato Devo ricaricare Copritemi Ehi dalle montagne E' dal mare Inciami, c'è un cecchino Dalle tetra, si sta nascondendo Ok Che cazzo è Che cazzo è la pizze? Sì, sono sulla montagna Sopra la costruzione C'è un cecchino nemico C'è un cecchino nemico C'è un cecchino nemico C'è un cecchino nemico I nemici Non ha secco Ricarico Ma mi ha coltellato Non ci credo C'è un cecchino nemico Ecco il kit medico Sul lato basso Sulla terrorizia Tieni, medicine Min INTERFANERA Sono arrivato in vivo Cause, dietro On Covid On Covid Ok Ma è la On Covid On Covid Commissi Ma Pistallo Dilly soldati ostili soldati ostili ok Jonas gruppo 2 il nemico se ne va bel lavoro bella raga io sta caro ci vediamo più tardi bella partita poi mi è piaciuta bravi ragazzi bravo Cassis bravo ex capitano ex capitano non c'è c'è guarda si